Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Una ex amatissima allieva di Amici di Maria De Filippi ha fatto Coming Out, rivelando dettagli piccanti della sua vita privata. Si tratta della cantante Gaia Gozzi, vincitrice della 19esima edizione del Talent Show. In un'intervista a Hot or Not di My Secret Case, Gaia ha confessato di essere attratta sia da ragazzi che da ragazze e di essere single da diversi mesi. La cantante ha dichiarato di non avere rapporti sessuali da sette mesi a causa del suo intenso lavoro. Ha anche rivelato che le è più facile mantenere un'amicizia con una donna rispetto a un uomo e che le piacerebbe sperimentare anche relazioni a tre, preferibilmente con due ragazze e un ragazzo. Gaia Gozzi ha sottolineato di essere cresciuta in un ambiente familiare e di amicizie in cui c'era piena libertà di esprimere l'omosessualità. Ha menzionato di avere un padrino gay, amici gay e zii omosessuali, sottolineando che l'amore è libero e che non ha mai avuto esperienze negative legate al Coming Out. Attualmente, Gaia Gozzi sta ottenendo un grande successo con il brano Sesso e Samba, in collaborazione con Tony F. La cantante ha espresso la sua apertura e libertà nel parlare della propria sessualità e delle sue esperienze personali, dimostrando coraggio e autenticità.